Musica Mercoledì 8 novembre, ben ritrovati su Vercelli Web TV. La procura di Milano, nell'indagine cui coinvolge l'ex presidente della regione Lombardia, Mario Mantovani, indagato per peculato ed accusato di intascare soldi pubblici per le sue onlus, c'è anche Monsignor Sergio Salvini, parroco di San Cristoforo Vercelli. Il prelato sarebbe indagato per alcuni finti contratti di locazione e per due immobili riconducibili a Mantovani. L'arcidiocesi di Vercelli, in una nota, attesta la propria piena fiducia nella magistratura inquirente ed auspica il totale e rapido chiarimento degli addebiti contestati. Seconda serata della settimana di Vercelli Cocktail Week, ieri al Bijou Caffè di Corso Libertà. Allora, un prodotto made, innanzitutto, deriva dal fatto in casa, quindi fondamentalmente stasera andremo a spiegare l'importanza del prodotto fatto in casa non solo per evitare lo spreco, ma anche per un risparmio e un prodotto di qualità fondamentalmente. Le tipologie di domenica in realtà sono molto più ampie, nel senso che noi qua parliamo di prodotti, parleremo di sciroppi, parleremo di alcolici, parleremo di cucina, liquid kitchen, che è una moda ultima che però non tutti magari possono permettersi di fare per via della mancazza magari di una cucina, un cocktail bar non può avere solo una cucina, ma noi oggi abbiamo portato diversi prodotti che possono essere prodotti da qualsiasi bar, anche caffetteria. Basta avere qualche ingrediente e un po' di inventiva. Questa sera, sempre nell'ambito di Vercelli Cocktail Week, la serata si svolgerà al Caffè Imperiale di Via Verdi con inizio alle ore 21. Mercoledì siamo a casa mia, al Caffè Imperiale, arriva lo staff del Meg Caffè di Milano, bar che è stato appena premiato dal Gambero Rosso come miglior cocktail bar d'Italia, e ci parleranno della miscelazione, del loro modo di lavorare, di come fare una drink list personalizzata, ci presenteranno dei prodotti di loro produzione. Venerdì alle 21, presso il Teatro Civico di Vercelli, andrà in scena Medea con la regia di Luca Ronconi e la raffinata interpretazione di Franco Branciaroli. Io non interpreto una donna, sono nei panni di un uomo che recita una parte femminile. È molto diverso, afferma Branciaroli, di nuovo protagonista di questa storica edizione di Medea. I biglietti si possono acquistare anche presso la biglietteria del Teatro Civico, venerdì a partire da un'ora prima dell'inizio dello spettacolo. E sempre al Teatro Civico, ma questa volta domenica pomeriggio alle 17, va in scena la traviata di Giuseppe Verdi. L'opera vedrà anche molti vercellesi tra gli artisti. Stiamo cercando veramente di far rinascere il nostro teatro, che per anni è stato un teatro di tradizione che ha avuto tantissimi spettacoli importanti. Quindi abbiamo deciso quest'anno di ricominciare e soprattutto di far partecipare le realtà del nostro territorio, quindi in questo spettacolo parteciperanno anche la nostra scuola Vallotti con un soprano e anche con alcuni componenti dell'orchestra. Parteciperà il coro lirico Giovanni Battista Viotti e parteciperà anche l'Accademia di Danza della città di Vercelli. E questo per noi è veramente un grande onore. E ringrazio di questo l'Associazione Ritorno all'Opera, che ci ha permesso di far collaborare tutte queste enti, tutte queste realtà del nostro territorio, per arrivare a riportare grande sfazio al nostro teatro. Nei giorni scorsi, presso il Salone di Onore del CONI a Roma, è avvenuta la celebrazione di presentazione delle città e comunità dello sport del 2017, 2018 e 2019, tra cui lo sapete c'è anche Vercelli. La cerimonia è iniziata dalla consegna delle ciotole d'oro ai territori, la cui titolarità è in corso. La ciotola d'oro al Monferrato, in quanto comunità europea dello sport del 2017, è stata consegnata dal presidente del CONI ad Aria Carmi, assessore di Casale Monferrato e dagli altri assessori che rappresentano i territori uniti per la valorizzazione del Monferrato. La ventiseiesima edizione di Immagini dal Mappamondo inizia domani, giovedì 9 novembre. L'appuntamento con la ormai storica Rassegna Vercelliese per le 21.15 presso la Sala Petri del CAI in Via Stala 1. La prima serata avrà come protagonista la giovanissima vercellese Giulia Bertolazzi, che presenterà le sue immagini dell'Islanda, paese in cui ha vissuto e studiato per diversi mesi grazie all'intercultura. Con l'arrivo dell'autunno presso i locali adiacenti al peso pubblico in Via Faglia-Gattinara, tutti i martedì dalle ore 20 e 30 riprendono le attività della Scuola di Scultura e Modellazione. Un percorso iniziato lo scorso anno ha aperto a tutti coloro i quali desiderano approfondire la passione per la scultura e anche a chi fino ad ora non si è mai cimentato in quest'arte. I corsi sono affidati agli scultori Giovanni e Fabio che si propongono di far conoscere ai partecipanti le tecniche basi per la scultura e la modellazione. Ed ora un attimo di pubblicità e poi lo sport. Il casale calcio, che milita, lo sapete, nel campionato di Serie D, ha nominato il nuovo allenatore dopo le dimissioni improvvise lunedì scorso di mister Ezio Rossi. Si tratta di Stefano Melchiori, genovese 52enne che ha già guidato il casale nella stagione 2008-2009. Il lunedì si è giocata la settima giornata del campionato di Serie C2 di calcio a 5 che vede due compagini vercellesi in lizza. Ebbene il città di Vercelli, che avendo la meglio sul Cinzano per 6 a 5 sul terreno amico cittadino, mantiene la seconda piazza in classifica, staccato di sole due lunghezze dalla capolista Eporedia. E' ancora una sconfitta, relega la Provercelli alla penultima posizione in graduatoria solo un punto davanti al fanalino di coda Cinzano. La Provercelli torna dalla trasferta di Novarello contro il Cuspi e Monte Orientale con la sconfitta di 4 a 1. Per questa edizione del nostro telegiornale è tutto e noi ci vediamo come sempre domani sera al 19. circa000 milioni nel cibo centimetri fattuti. Costa da